Ciao a tutti, sono Francesca di ViaggiareDasoli.net Vi volevo dare qualche consiglio pratico su cosa portare nel vostro viaggio da soli in Bolivia Prima cosa, un paio di occhiali andini La luce è molto molto forte e gli occhi vi faranno molto male Mi raccomando, portate un paio di occhiali che abbiano almeno un gradiente 4 con voi Non sono fashion, ma continuerete a vederci Altra cosa, un rotolo di carta igienica Può sembrarvi strano, ma non è una cosa così diffusa E anche quando andrete negli ostelli o in piccoli alberghi o in campeggio Sarà molto difficile trovare della carta igienica Quindi vi consiglio di comprarla in un negozietto prima o in farmacia E portarvela sempre con voi La mia salvezza, il Menti Sun Come sapete la Bolivia è uno dei paesi più alti del mondo Diciamo, quasi tutto il vostro viaggio sarete sopra i 3000 metri E' davvero, davvero, davvero difficile respirare Anche se siete sportivi, se andate a sciare Considerate che le Ande sono un altro territorio E il vostro naso si disidraterà sempre di più Sarà molto difficile respirare E perderete sangue, specialmente di notte Non vi preoccupate Basta andare in farmacia, comprare il Menti Sun E un unguelto al mentolo Lo mettete nelle narici Andrà molto meglio Non avrete nessun problema nel dormire E potrete fare con calma le vostre passeggiate A presto, ciao!